Musica Buonasera, è sempre più critica la situazione in Italia per il coronavirus. Sale ad oltre 8 mila il numero dei positivi a fronte di quasi 163 mila test. Il punto con Letizia Davoli. Crescono, anzi esplodono inesorabilmente di giorno in giorno i nuovi positivi al Covid-19. 8.804, il dato di oggi, 1.500 casi in più rispetto a ieri. Non sono ammalate, ha ribadito ancora una volta il Vice Ministro della Salute, Sileri. I numeri più importanti sono quelli dei ricoveri nelle terapie intensive. L'obiettivo è tenerle libere il più possibile per garantire ad ogni paziente tutte le cure possibili. Numere che oggi sono ancora molto lontane dal sovraccarico del sistema sanitario, ma gli ultimi dati indicano che l'unica via da seguire è la precauzione massima. In 24 ore i morti sono quasi raddoppiati da 43 a 83, così come le terapie intensive passate da 24 a 47. Tamponi ancora da record, 163 mila, ma resta uguale a ieri. La percentuale di positivi sui tamponi pari al 5%. Il virus è esattamente patogeno come prima, perché le sequenze virali sono esattamente le stesse. Gli ultimi dati che emergono è che il virus è diventato capace di produrre più punte, più spike, più spiccole. Lo fa più appiccicoso, più facilmente trasmissibile. È forte allarme tra i virologi, soprattutto per l'impressionante aumento dei contagi nell'RSA. Siamo tornati di nuovo al centro della pandemia, nonostante il bilancio già tragico della prima fase del Covid. Focolai, anche di grosse dimensioni, stanno scoppiando in tutto il paese ed è da lì che inizia a arrivare la pressione sulle terapie intensive. Ormai i contagi tra anziani e operatori si contano a centinaia e molti comuni e regioni iniziano a chiudere gli accessi ai visitatori. Continuano anche i contagi nel mondo dello sport. L'ultimo, Valentino Rossi, positivo con sintomi, è già in isolamento. Se i balzi di giorno in giorno sono questi, siamo in una situazione molto preoccupante e quindi bisogna prendere le precauzioni del caso per non dover richiudere tutto. Quindi grande responsabilità. Limitare la libertà, limitare la vita è sempre molto brutto, ma morire o ammalarsi gravemente non è una grande alternativa. E per contrastare il coronavirus, nuova ordinanza della regione Campania, scuole chiuse fino al 30 ottobre. Per il ministro Azzolina è una decisione gravissima e sbagliata. Federico Plotti Il governatore Campano De Luca lo aveva detto più volte nelle settimane scorse. Se i contagi dovessero arrivare a superare i mille al giorno, chiudo tutto. Non è stato proprio così, ma l'ordinanza firmata poco fa ha tutti i connotati di un mini lockdown. E così dopo gli oltre 1100 contagi di oggi, da domani e fino al 30 ottobre in Campania resteranno chiuse scuole e università. Ma non solo. Stop a battesimi, matrimoni e altre cerimonie. E alle feste private potranno partecipare solo i parenti. Ad Arzano, comune commissariato di 34 mila abitanti nel Napoletano, La commissione straordinaria, alla luce del boom di contagi registrato negli ultimi giorni, aveva già deciso per una drastica stretta, chiudendo da oggi e per una settimana uffici pubblici, scuole e negozi ad eccezione di quelli che vendono generi di prima necessità. La gente però non l'ha presa bene e centinaia di persone, tra cittadini e negozianti, sono scesi in strada per protestare contro l'ordinanza. In Valle d'Aossa sono state istituite poco fa tre zone rosse in altrettanti comuni, mentre in Lombardia, la regione più colpita dall'epidemia, prende sempre più piede l'ipotesi di attuare chiusure mirate anche nell'area metropolitana di Milano, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati più di mille nuovi positivi. E alla luce dell'aumento dei contagi, il filo su cui si muovono governo e comitato scientifico diventa ogni giorno più sottile, la parola lockdown non sembra essere più un tabù. È lo stesso presidente del Consiglio Conte a non porre più limiti. La possibilità di altre più consistenti misure restrittive dipenderà dal comportamento dell'intera comunità nazionale, ha detto il Premier, non escludendo a priori nuove più drastiche restrizioni anche a Natale, come ipotizzato da diversi immunologi. Siamo in un limbo. La possibilità che da questa crescita lineare si arrivi a quella crescita espansiva e esponenziale è un attimo e quindi è fondamentale un'azione di contenimento e di responsabilizzazione dei cittadini. C'è chi dice siamo tornati nella situazione in cui eravamo in primavera? In primavera la situazione era peggiore perché in realtà i casi che conteggiavamo erano un decimo dei casi reali. Ora riusciamo a carotare, a individuare quelli che ormai sappiamo essere come c'erano allora e ci sono ancora oggi, i soggetti asintomatici. Che fare allora? Sono necessarie misure più restrittive? Bisogna cominciare a pianificare, preoccuparci, immaginare scenari, i scenari da poter attuare magari velocemente. Quindi lockdown limitati nello spazio e nel tempo? Ritengo che possano essere presi in considerazione degli scenari per lockdown limitati nel tempo e territorialmente e geograficamente limitati. In Vaticano salgono ad 11 casi di Covid tra le guardie svizzere al servizio del Papa. È stato disposto da subito l'isolamento dei positivi e si sta procedendo con ulteriori opportuni controlli. L'allarme nell'esercito più piccolo del mondo, circa 160 guardie, era scattato domenica scorsa con la notizia di quattro contagi. E con la pandemia c'è il rischio di una catastrofe educativa. Per Papa Francesco serve un patto educativo globale. Paolo Fucili. Tra le emergenze amplificate dalla pandemia nel mondo ci sono quelle di scuole e università. Anzi, riferisce Francesco. Si parla di catastrofe educativa. Catastrofe perché, dicono le agenzie internazionali, 10 milioni di bambini potrebbero lasciare presto la scuola costretti dalla crisi economica post-coronavirus. Aumentando un divario educativo già allarmante, con oltre 250 milioni di bambini in età scolare, esclusi da ogni attività formativa. Poi ci sono le disparità di accesso alla tecnologia e alle piattaforme online, su cui tante scuole, a causa del lockdown, hanno spostato l'attività didattica. L'educazione ha alla base un processo di relazione che realizza, alla fine, una unità tra l'elemento spirituale e l'elemento materiale. Se manca questo, parleremo di altre cose, non di educazione. Riflessioni ispirate al videomessaggio del Papa, oggi a studenti, docenti ed ospiti dell'Università Lateranense di Roma. Tema il patto educativo globale, già lanciato un anno fa dal Papa, che ora rinnova l'appello a famiglie, scuole, governi e religioni. L'educazione, dice, è una via delle più efficaci per umanizzare il mondo e la storia, per un'economia ed una politica davvero al servizio dell'uomo. è l'antidoto naturale al culto dell'io e all'indifferenza. Di fronte alla piaca delle violenze e degli abusi sui minori, ai fenomeni delle sposse bambine e dei bambini soldato, al dramma dei minori venduti e resi schiavi. In Europa è sempre più difficile arginare la seconda ondata di Covid-19. Oltre 700.000 i casi nell'ultima settimana. Per il Regno Unito l'Italia è di nuovo nell'elenco dei paesi a rischio. Francesco Durante. È la quinta causa di morte in Europa, con mille decessi quotidiani e 100.000 casi al giorno. Aumentano i contagi da Covid-19, così come i ricoveri in ospedale. Una situazione molto preoccupante per il direttore dell'ufficio regionale dell'OMS, Hans Kluge, che sollecita misure progressive per contenere la diffusione del virus. E così il presidente francese Macron annuncia il coprifuoco dalle 21 per sei settimane a Parigi e in altre nove città, tra cui Marsiglia, Lione e Tolosa. E per arginare i contagi, da stasera in Catalogna i bar e i ristoranti rimarranno chiusi per 15 giorni. Anche la Germania cerca di frenare l'impennata record dei positivi, oltre 6.600 nelle ultime 24 ore, attraverso una serie di limitazioni nei contatti, sia in pubblico che in privato, in base al rapporto tra nuove infezioni e numero di abitanti. La Gran Bretagna ha rimosso l'Italia dalla lista dei paesi sicuri, per cui chi arriverà nel paese dovrà rimanere 14 giorni in auto-isolamento. E sempre il Regno Unito, dalla mezzanotte di sabato, passerà al livello di allerta alta. Allarme anche in Repubblica Ceca, il paese che in Europa ha registrato il più alto tasso di contagi, 581, e di decessi, oltre 4, ogni 100.000 abitanti. Intanto, in una lettera aperta, 80 scienziati di tutto il mondo avvertono che è un errore pericoloso pensare di arrestare il virus raggiungendo l'immunità di gregge. Il modo migliore per contenere la diffusione dei contagi, ricordano, è il rispetto delle regole. Il virus dell'individualismo è pericoloso quanto il Covid. Dall'Università di Macerata, queste le parole del presidente Mattarella. Leonardo Possati. Il virus dell'egoismo dei singoli e degli stati è pericoloso quanto gli effetti del coronavirus. E purtroppo riemerge troppo spesso anche in tempi così difficili come quelli attuali. Intervenuto all'inaugurazione del 730esimo anno accademico dell'Università di Macerata, il presidente della Repubblica richiama i doveri cui tutti siamo chiamati a fare fronte. Davanti al Covid, però, sottolinea Sergio Mattarella, l'Università di Macerata, così come tutti gli atenei italiani, ha saputo riorganizzarsi e reinventarsi per permettere agli studenti di proseguire nel loro curriculum di studio. Accantonando l'idea che la libertà degli altri sia un limite alla propria, ma pensando al contrario che la libertà di ciascuno si integra con quella degli altri, che la libertà di ciascuno si realizza insieme a quella degli altri. Altrimenti la libertà non esiste. Una libertà rivendicata o anche soltanto praticata in maniera esclusiva non sarebbe tale, sarebbe in realtà una richiesta di arbitrio. E questo malgrado, nemmeno quattro anni fa, lo stesso Ateneo affrontò un'altra prova durissima, il terremoto che colpì il centro Italia. Colgo questa occasione per riaffermare con ferma determinazione che è la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto, che ormai di quattro anni addietro, rappresenta un punto primario dei doveri della Repubblica. Anche il vertice europeo di Bruxelles, convocato per fare il punto sul piano di ripresa, sul recovery fund, si apre con il Presidente della Commissione in quarantena. Augusto Cantelbi. Un vertice europeo nel segno del Covid. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, abbandona il summit in corso dopo che è stato riscontrato un caso di contagio all'interno del suo staff. Non prima tuttavia di aver invitato i leader dei 27 paesi ad accelerare i negoziati per raccogliere poi fondi sul mercato per avviare il recovery fund. Anche per il Presidente del Consiglio Conte è il momento di agire in modo coordinato, soprattutto per arginare il virus. Ci scambieremo delle informazioni, cercheremo di rafforzare la strategia anche per quanto riguarda il contrasto sul piano delle risposte sanitarie. Un minuto di silenzio in Parlamento e cordoglio bipartizana del mondo politico e istituzionale per la morte di Iole Santelli, prima donna Presidente della Regione Calabria. Una perdita dolorosa, scrive in un tweet il Presidente del Consiglio Conte. Per Silvio Berlusconi, mentore politico della Santelli, se ne va un'amica sincera, intelligente, leale, una donna appassionata, una combattente tenace che non aveva paura di nulla, neppure della malattia e della sofferenza. Qualità riconosciute da tutti gli esponenti, politici senza distinzione di partito. Un esempio di donna di grande coraggio per la Presidente del Senato Casellati. Solo le grandi donne possono esprimere. Io penso che dovremmo tutti trarre esempio dal suo coraggio. L'Inps rende noti i dati sul reddito di cittadinanza e non solo, anche gli importi medi e il numero dei nuclei familiari interessati. Giuseppe Caporasso. Un milione e mezzo di domande per il reddito di cittadinanza sono arrivati all'Inps e quasi un milione e trecentomila persone hanno avuto l'assegno con il coinvolgimento di tre milioni di persone. Per la pensione di cittadinanza i percettori sono stati finora 137 mila. Snocciola i dati. L'Istituto di Previdenza, che indica anche la media di 526 euro che vanno distribuiti tra il reddito di cittadinanza con un importo medio pari a 563 euro e la pensione di cittadinanza con 246 euro. Lungo la penisola affluirne maggiormente le famiglie 166 mila che abitano in provincia di Napoli. Il numero supera complessivamente quello della Lombardia e del Veneto. Sempre l'Inps evidenzia anche i dati del cosiddetto reddito di emergenza erogato durante il periodo della pandemia. Si differenzia da quello di cittadinanza legato quest'ultimo soprattutto a politiche attive di ricerca del lavoro. Il reddito di emergenza dura al massimo due mesi e lo hanno utilizzato 290 mila famiglie con 398 mila persone coinvolte. L'importo medio mensile è di 558 euro. La cronaca a Napoli, la Guardia di Finanza ha scoperto una stamperia di soldi falsi. I baschi verdi hanno sequestrato oltre un milione di euro più di 68 mila banconote di ottima fattura e di taglio diverso compresi numerosi biglietti da 5 euro. Quattro le persone arrestate mentre erano intente a stampare e confezionare le banconote della nuova serie Europa pronte per essere illecitamente immesse nel circuito legale. E intanto una nuova ondata di maltempo sta attraversando l'Italia. Pierluigi Vito. Il Mose torna a separare le acque dell'Adriatico da Venezia. Le barriere mobili sono riuscite a fermare la marea spinta dallo Scirocco evitando che Piazza San Marco fosse sommersa dall'acqua alta. Ma in questa giornata di maltempo si sono registrate tante situazioni critiche da nord a sud. Proprio vicino a Venezia, a Sottomarina, una tromba d'aria ha sradicato alberi scoperchiato tettoie. Decine gli interventi richiesti ai vigili del fuoco. Devastata nella notte dalla furia del vento anche la Maremma, con numerosi tralicci della luce crollati e in diverse zone della Toscana permane per tutta la serata l'allerta gialla. Pesante la situazione nelle Frusinate dove un bus di linea è rimasto travolto da un fiume di detriti nei pressi del comune di San Biagio Saracinisco. Spaventati ma incolumi l'autista e il solo passeggero a bordo. Sempre in Ciociaria un ponte crollato a Picinisco. Coinvolta una vettura, anche qui senza feriti da registrare. Forti disagi si contano pure in Campania con persone bloccate in auto dagli allagamenti ad Avellino, mentre il forte vento ha fatto cancellare i collegamenti in aliscafo tra Napoli e le isole di Ischia e Procida. E le immagini ci portano ora a Como, ad un mese dalla morte di Don Roberto Malgesini. La sua città è la diocesi e ricordano il prete degli ultimi. Proprio in questi minuti, lo state vedendo, il vescovo Oscar Cantoni sta celebrando la messa di suffragio nella chiesa di San Rocco. Don Roberto è stato ucciso a coltellate nella mattinata del 15 settembre per mano di un 53enne senza tetto e con problemi psichici che il sacerdote valtellinese stava aiutando. Testimone autentico della libertà e del dovere. Così il presidente Mattarella ha ricordato i cent'anni dalla nascita del vicebrigadiere Salvo d'Acquisto. Cesare Cavoni. Salvo d'Acquisto sacrificò la propria vita per salvare quella di 22 innocenti rastrellati dalle SS tedesche tra le abitazioni di Torri in Pietra sul litorale ero romano. È un pezzetto importantissimo della nostra storia che viene oggi ricordato nel centenario della nascita dell'eroe che nacque a Napoli nel 1920. E proprio a Napoli si è celebrata presso la Basilica di Santa Chiara in suo ricordo una messa e dopo la messa nell'Aulamagna storica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il fratello del vicebrigadiere Alessandro d'Acquisto ha rievocato episodi di vita familiare vissuti con Salvo. Sulla tomba dell'eroe le più alte cariche militari dell'arma hanno deposto un cuscino di fiori. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato il sacrificio di Salvo d'Acquisto che ha detto il 23 settembre del 43 nei giorni più tragici di un conflitto mondiale che stava lacerando il paese ha rappresentato l'immagine più luminosa del riscatto di un popolo e di tutti coloro che anche nei giorni più oscuri non avevano mai perso la speranza. Ci spostiamo in America Latina preoccupati per la situazione del Covid-19 in Cile hanno dimenticato i 33 minatori salvati dieci anni fa. Erano eroi ed oggi vivono in povertà. Alessandra Camarca Sono trascorsi dieci anni dal crollo del tetto della miniera di San José in Cile e dallo spettacolare salvataggio dei 33 minatori rimasti intrappolati. Per non dimenticare l'avvenimento che scosse il mondo intero il Cile celebra l'anniversario raccontando la storia dei sopravvissuti in particolare quella di Mario Sepulveda uno dei leader del gruppo la cui vicenda ha ispirato un film e che ricorda quei terribili momenti ma anche quanto è bello imparare dalle lezioni del miracolo dice della miniera di San José per poter affrontare con lo stesso atteggiamento con gli stessi valori e la stessa volontà fede e unità le grandi sfide e le tremende avversità che la pandemia di coronavirus e le devastazioni della recessione economica mondiale portano con sé. L'incidente della miniera avvenne il 5 agosto 2010 i minatori rimasero intrappolati a circa 600 metri di profondità e vennero recuperati ad uno ad uno grazie ad un pozzo di soccorso largo appena 66 centimetri un'operazione che costò circa 20 milioni di euro tutto il mondo seguì in diretta il salvataggio durato 22 ore da allora alcuni dei minatori sono diventati delle star per molti altri però le cose sono andate diversamente vivono in povertà e molti di loro non hanno un lavoro ricevono una pensione dallo Stato pari a circa 300 euro al mese era il nostro ultimo servizio grazie per averci seguito vi lascio alle previsioni meteo e a TGTG il TG2000 torna domani alle 12 buon proseguimento di serata